Buongiorno, siamo qui con Leone, migliori in campo nella partita tra Real Pacino e Keller Sforzionalmente è terminata 2-1 per i Keller, ma se è terminato da 1 è solo grazie a Leone Perché veramente oggi è stato impeccabile e certe due gol Vabbè, Leone, commento? Diciamo che il primo gol forse è quello che non ci voleva Perché è nata un'incomprensione difensiva E forse il punteggio esatto era il pareggio di questa partita Ho capito, ho capito, va bene Senti, Real Pacino quest'anno hanno perso elementi importanti Però altrettanto li hanno guadagnati alcuni che secondo te sono la stessa altezza dei precedenti Beh, io vengo qua non per guardare la costanza e la determinazione dei compagni Ma più per l'amicizia, per giocare insieme così ci divertiamo Ho capito E' la cosa, come io ogni campo lo dovevo fare Vabbè, pisa, pisa Senti, se non per la vittoria mi vuoi dedicare il premio a qualcuno? Ma vorrei dedicare il premio, non lo so A tutti gli elementi che abbiamo perso nel campionato scorso A Jenny e a Mariano Va bene, allora ringraziamo Leone e Al Pacino Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti